Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 in uscita a Firenze Sud, però venendo da Bologna, sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze, e in Fipili, tra La Strassigna e Firenze Scandici, in direzione di Firenze. Per il traffico urbano del capoluogo, quest'oggi, in orario 10.16, la tramvia è interrotta tra le fermate Alamanni e Strozzi Fallaci per interventi su alcune alberature. Previsto un bus sostitutivo, pregolari i tram tra Villa Costanza e Alamanni Stazione e tra Strozzi Fallaci e Careggio Ospedale. Prima di salutarci informiamo che fino alla mezzanotte di questa sera è in vigore un codice giallo per mareggiate che interessa l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago. Possibili disagi per i collegamenti marittimi. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!